Crayon risponde. Canalizzato da Lee Carroll. Impianto neutro e karma. Domanda. Caro Crayon, sono brasiliano ed ho letto alcuni dei tuoi libri. Ho una domanda sull'impianto neutro. Se veniamo qui con il karma da vivere per essere ripulito, quando neutralizziamo questo karma, da come ho compreso e neutralizzato, non cambiato, cosa accade quando ce ne andiamo? Dobbiamo ancora ripulire questo karma? Un'altra domanda è, Se noi neutralizziamo il karma, cosa accadrà alle persone che avevano del karma da pulire con noi? Per esempio, ho un figlio ed una figlia che evidentemente hanno un karma che ha a che fare ed essere chiarito con me. Sicuramente eravamo d'accordo, o abbiamo stretto un contratto, prima che essi venissero a vivere tramite il karma. Se io neutralizzo il mio, cosa accadrà a loro? Risposta. Carissimo, hai di nuovo deciso di intellettualizzare una cosa semplicissima e fondamentale. Quando qualcuno ti dice, ti amo, parti con un interrogatorio? Ascolta. L'impianto neutro è il permesso di neutralizzare il passato. È uno strumento dello spirito datoti in uso, se vuoi. Cambia completamente le parti ed i pezzi del tuo DNA interdimensionale che era programmato per eseguire un compito della vecchia energia per risolvere, lavorandoci sopra, il karma. Quando viene richiesto, inizia un processo che è davvero profondo e diverso per ogni individuo. Alcuni lo sentono ed altri no. Il karma si ripulisce nel momento in cui tu chiedi di cambiare personalmente. Anche gli altri che hanno con te il karma vengono cambiati. Questo può sembrarti non giusto, ma vi abbiamo insegnato, da una decina d'anni a questa parte, che voi siete un gruppo. Nulla che fate per voi stessi al singolare. Esso cambia l'energia intorno a te. Vi abbiamo detto che se giocate regolarmente a tennis con un compagno ed un giorno il compagno non si fa più vedere, dopo un certo numero di appuntamenti mancati, anche voi smetterete di farvi vedere al campo da tennis. Il karma è complesso, ma opera davvero nel modo che diciamo. Se voi ripulite il vostro, anche chi ha del karma con voi ne è influenzato. Fa tutto parte di un grandioso sistema che dice che si aiuti te stesso, aiuti anche il pianeta. Quando te ne andrai e tornerai, è sempre andato. Non c'è alcuna regola che dobbiate rivivere alcun che. Una volta che cambiate il vostro DNA spirituale, questi attributi appartengono alla vostra anima e fanno parte del registro akashico. Ricordatelo, non c'è predestinazione, solo predisposizione. Quando venite su questa terra per sperimentare avete solamente potenziali. Queste predisposizioni sono generate da ciò che avete fatto e da ciò che avete imparato. Giacciono là supplicando di essere cambiate. Cominciate ad abituarvi all'idea di essere un angelo programmato in modo dinamico, che vivete in un credo appropriato ma falso, e non siete controllati. Il vostro test è di imparare che, ogni volta che lo volete, potete cambiare la vostra vita. L'impianto neutro è il primo di, molti, strumenti di cui vi abbiamo parlato che influisce direttamente sulle parti spirituali del vostro DNA. Quando venne presentato per la prima volta, molti dei vostri conclamati capi metafisici ostacolarono, definendolo persino diabolico. Il loro pregiudizio era che voi foste predestinati a servire il vostro karma. Ma non lo siete. Il karma è un'energia di partenza, e questo è tutto. Ha senso per voi che Dio vi abbia fatto venire sulla terra senza possibilità di scelta nella vostra vita? Sarebbe come essere schiavo del passato. Pensateci. Voi siete responsabili di tutto, della vostra salute, delle vostre relazioni amorose, della vostra pace, della lunghezza della vostra vita, e sì, anche dell'energia del vostro stesso passato. Se accettate per vere qualsiasi cosa, non coprirete mai la distanza dal luogo in cui siete ora, 4D, all'energia interdimensionale che vi viene data adesso. Voi siete un essere umano capace e potente, un frammento di Dio e una parte del grande piano dell'universo. Crayon. Quarto trimestre 2003. Domanda. Caro Crayon, scommetto che sei stanco delle domande sull'impianto neutro, però io sono ancora confuso. Se chiedo l'impianto neutro, cosa succede al karma che deve essere risolto? Una lezione deve essere imparata e mi sembra poco corretto semplicemente saltar via il karma e andare oltre. Può sembrare stupido, ma in qualche modo temo che quando abbandonerò il mio karma chiedendo l'impianto neutro, il mio karma peggiorerà rispetto a quello di adesso. Ho la sensazione che il mio karma è l'unica forza importante che mantiene interessante la mia vita. Da una parte non voglio altro che risolvere il mio karma e chiedere l'impianto neutro, e dall'altra sento che devo farlo da me stesso. Risposta. Ciò che non vedi è che quando a scuola sei promosso come essere umano, quanto ti mancano i giocattoli, i primi libri di lettura, l'intervallo di pranzo, il latte con i biscotti e sentirti protetto dalle responsabilità e tutte le cose che avevi all'asilo. Se avessi la possibilità di crescere, non lo vorresti? Vedi, non stai saltando nulla. In questo momento stai semplicemente sguazzando nel solito vecchio sistema che si è perpetua ogni volta che vai e vieni sulla Terra. Può sembrare che ci sia un qualche sistema che debba essere risolto, ma questo è ciò che è in quel vecchio sistema, una dualità che ti fa sentire come se fosse tutto lì. I maestri del pianeta non avevano nulla da risolvere. Arrivarono senza il vecchio sistema. Questo fa parte dello scenario dell'attivazione e della maestria. Solo che tu sei ancora bloccato con una questione intellettuale, quello di essere ancora all'asilo e utilizzi le regole e i sentimenti del bambino dell'asilo domandando come continuare a restare lì, fuori dalla consapevolezza che è il tuo più grande dono. Crayon. Quarto trimestre 2004. Domanda. Caro Crayon, ho chiesto l'impianto nel 2001 ed allora la mia vita è un inferno. Dimmi, sono cambiato io? La mia vita diventerà più serena o rimarrò sempre nella disperazione e nella sofferenza? Grazie per i tuoi insegnamenti, mi hanno reso consapevole delle mie guide e a chiedere loro aiuto e a stringere anche le loro mani. Voglio solo un po' più gioia e meno dolore nella mia vita. Risposta. L'impianto è l'autorizzazione alla maestria. Autorizzate a ricevere il ponte che attraversa il divario tra l'essere inconsapevoli della vostra divinità e l'essere totalmente consapevoli di tutto, da qui parte il processo del risveglio. Non si tratta di un attributo di Crayon, ma di un nuovo dono per ciò che voi avete creato sul pianeta. Se sentite che è cambiato tutto subito dopo aver espresso l'intento presso, allora sta funzionando. Comunque, nessun umano è punito per aver rivendicato la sua divinità. Non è stato progettato per creare una vita di inferno. Quindi, ti chiedo. Quando l'hai chiesto, speravi che qualche problema si sarebbe risolto in qualche modo da se stesso? Oppure hai espresso il tipo di intenzione di cui parliamo noi, in cui ascoltare lo spirito è tutta la consapevolezza che hai resvegliato? Forse stai lottando proprio contro gli attributi che avevi chiesto? L'impianto è un dono, un attrezzo. Se apri la cassetta ed esce qualche difficoltà che non ti aspettavi, ti siedi sulla cassetta e aspetti che si risolva oppure prendi in mano questo nuovo strumento che ti è stato dato e affronti l'impresa di trasmuttare i tuoi problemi in soluzioni? Vedi, l'impianto può aver spalancato una cassetta che c'è da sempre, ma tu ci stai seduto sopra. Ora vengono fuori i problemi che sono sempre stati là, ma insieme a nuovi attrezzi. È tempo di usarli. Crayon. Quarto trimestre 2004.